In questo film finalmente c'è una rappresentazione della nuova generazione dei cosiddetti millennials visti sempre come scioperati, sfaticati e nullafacenti, in realtà in un modo diverso perché finalmente invece lì si vede prendersi delle responsabilità. Voglio fare un esperimento antropologico, l'ho fatto anche di là, oddio, vecchia generazione in realtà no, perché stiamo lì, però un difetto della nuova generazione, uno della quasi vecchia e un pregio invece. Vediamo cosa c'è fuori. Io voglio dire una cosa da nonna, scusa ti ho levato la parola subito. No, no, vai, vai. Perché avrei detto il disimpegno, e non è affatto vero, no? Questa cosa dell'impegno poi c'è civicamente invece. Secondo me i giovani non stanno abbastanza all'aria aperta. Cioè, no, voglio veramente dire una cosa da nonna. Il modo sano in cui siamo cresciuti noi all'epoca, cioè di confrontarci con il mondo, ecco, adesso si è un po' perso, no? Perché c'è una forma di incantamento per tutto quello che riguarda la... no? Anche semplicemente uno schermo. In questo senso il nostro film, che racconta pure un'epoca e delle generazioni, invece io penso anche che lo sport ci abbia una cosa molto sana sotto, no? Quindi questo ragazzo che si prende delle responsabilità è anche un ragazzo che, insomma, guarda fuori dal proprio piccolo mondo. Tocca a me? Sì. Già. Non ero pronto. No, io sono assolutamente d'accordo con Giasmino, perché questa questione dell'aria aperta io la vedo proprio, cioè, con i miei amici che uscivamo molto più spesso, cioè mi ricordo quando stavo alle medie, stavo sempre in giro, adesso che c'è Facebook, il cellulare, di no, zì, sto a casa, no, zì, non esco, cioè ho perso. Io ho un amico l'ho perso, cioè è diventato poveraccio, non so che fine ha fatto. Però anche la questione del pregio può essere che questa nuova modalità espressiva ti permette di essere più, come dire, non dico più aperto mentalmente, però in un certo senso di avere più possibilità, cioè di essere più multitasking, che non è necessariamente un bene, però dipende da come uno la sa gestire. E per quanto riguarda la vecchia generazione, sì, non so cosa devo dire, mi sento... Guarda che tra noi non c'è una generazione, sai che la generazione viene definita in 25 anni, ti voglio rassicurare che tra noi due non c'è questo gatto. Allora, diciamo che forse la vecchia generazione ha un piccolo difetto che può essere l'essere proiettati molto su se stessi, cioè è la prima vera generazione di, come dire, individualisti, sì, di persone che iniziano a far un po' decadere il valore del gruppo e quindi forse è questo magari è l'unico punto debole. Perché magari hanno lasciato qualcosa a metà anche dal punto di vista politico. Un problema secondo me di questa nuova generazione è che le persone non si vogliono abbastanza bene, cioè nel senso loro provano a pensare a se stessi, ad essere magari egoisti, però non si rendono conto che comunque è un modo malsano per poter risolvere qualsiasi problema. Cioè basterebbe semplicemente volersi più bene, ecco, pensare più al proprio benessere in maniera positiva sempre. Quindi una cosa di entrambe le generazioni, dici tutti? Sì, sì, no, sì, grandi e piccoli di adesso. E ho notato questa cosa anche molto nelle persone più grandi, cioè anche persone, genitori che magari non sanno come affrontare delle separazioni, cioè a me sembra che noi ragazzi magari sappiamo affrontare meglio alcune cose di questo ambito. No, secondo me un problema della vecchia generazione è proprio la chiusura mentale che hanno proprio sulla vita in generale. Distrutto la generazione? No, no, sì. Parla di però tre generazioni fa. Sì, no, molte, cioè più generazioni fa questo, sì. Già quella prima di noi, che cioè sui 30-40 anni comunque già sono molto più aperti mentalmente di magari 60 anni fa. Secondo me proprio questa chiusura mentale è andata a influire sull'educazione che hanno dato su i bambini, i nostri genitori di adesso, che a sua volta ci hanno educato in una maniera diversa, che comunque è sbagliata perché, cioè secondo me, perché magari per non farci passare quello che hanno passato loro negativamente hanno trascurato altre cose importanti e magari si vanno a creare altri problemi dopo. E' questo. Facciamo una controprova. A Torino a V2 avevo chiesto se avevate avuto da adolescenti o da bambini una figura che aveva ispirato particolarmente e che aveva detto, mio Dio, sì, voglio diventare come lui o come lei da grande. Voglio vedere la controprova se mi dite lo stesso nome che mi avevi fatto a Torino e tu intanto che loro mi rispondano ci puoi pensare. Ok. Pensaci. Poi per post-produzione si migliora tutto. Vediamo. Chi è? Chi è? Io per la filosofia di vita sempre lo stesso. Me lo sentivo da bambino, me lo sento anche adesso a giovanotti. Ok, superato la prova. Superato la prova. Poi, ovviamente, a un altro livello c'è Totti, però è irraggiungibile, quindi no. Ti piacerebbe arrivare come giovanotti. Come giovanotti a 50 anni, ma che scherzi. Ma io ti ho fatto dei nomi? Sì. Cioè, ho caricato qualcuno di questa responsabilità di essere stato un modello? Sì. Nel campo del cinema o nel campo della vita reale? Vissuta. Del cinema. Ma tu te lo ricordi soprattutto cosa ho detto? Eh, nonna, non si ricorda niente. I neuroni. Verina, l'Alzheimer, il cinema, il cinema, il cinema, il cinema, il cinema e il cinema. Bene tutto. Era Gillian Anderson, comunque, di X-Files. È un modello, ti ho detto che era il mio mito da piccola, ma comunque ha 12 anni e non si sa bene quello che... Grande attrice, tra l'altro. Però posso dirti che l'altro giorno cercavo di rivedere X-Files e non ho proprio più l'età e il coraggio per vedermi una puntata di X-Files da sola. Ah. Pensa come... Che coraggio d'anno. Come capi, un po'. No, nessun idolo in particolare, se non mio fratello. Mio fratello più grande, sì. Infatti lui faceva skate, poi io vedevo, mi piaceva. E niente, l'ho seguito, ho seguito i suoi passi, poi lui ha smesso, io ho continuato. E niente. Io sono il nonno. Davvero? Complimenti. Eh, complimenti a te. Ma non c'è niente di meno di un poco per rimorchiare. Grazie.